Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata del mio esperimento sui tempi di caricamento di GTA Online esperimento che è giunto all'ultimo giorno, al giorno numero 5, tanto ormai abbiamo capito che ogni giorno succede sempre qualche inconveniente per tempo di caricamento intendo il tempo che passa dal momento in cui premo il tasto GTA Online al momento in cui effettivamente il gioco mi mette in una sessione funzionante ci sono due modi per avviare GTA Online, il primo direttamente da GTA Online, il secondo è prima avviare la modalità storia e poi dalla modalità storia far partire il GTA Online vero e proprio in questi 4 giorni di esperimento l'unico giorno in cui mi ha messo al primo colpo in una sessione funzionante è stato il giorno 2 dove ho avviato prima la modalità storia e poi la modalità online il giorno peggiore in assoluto con 25 minuti per avere una sessione funzionante è stato una delle volte in cui ho utilizzato il bottone GTA Online anche ieri utilizzando prima il bottone storia, caricando prima la storia anche ieri mi aveva caricato subito una sessione che sembrava funzionante se non fosse che dopo 3 minuti è crashato tutto il gioco e quindi poi ho dovuto riavviare il gioco da capo e siamo arrivati alla fine con un tempo di 17 minuti e 55 in questi primi 4 giorni, dopo 4 giorni su 5 di questo esperimento il tempo medio di caricamento è di 18 minuti, tondi tondi è veramente incredibile, vediamo se andremo a peggiorare o a migliorare con quest'ultimo tentativo che andrò a fare cliccando direttamente il bottone GTA Online molto bene quindi, cronometro che parte in questo preciso istante 6 minuti e 38 secondi 6 minuti e 38 secondi mi ha caricato questa sessione abbastanza piena con ben 20 giocatori proviamo a giocarci un po' dentro vediamo subito se questa sessione è funzionante o meno facciamo le cose che facciamo di solito trasferiamo il portafoglio dentro il conto in banca potete notare portafogli di 338 mila dollari questi sono i guadagni di una serata, quella di ieri, passate a fare le gare a soldi tripli della Arena War si guadagna veramente tanto diventiamo ceo come sempre andiamo a fare una missione per la popolarità del nightclub sperando che stavolta non mi proponga sempre la solita missione con l'hammer H3 limousine che fallisco sempre perché arriva sempre qualcuno che me la fa esplodere e invece ancora questa ma sempre la stessa, perché? io non capisco perché mi vuole far fare sempre la stessa missione ogni giorno ci saranno almeno 6-7 missioni diverse per la popolarità del nightclub invece no, mi fa sempre fare la solita missione con questa hammer H3 limousine che finisce sempre per essere fatta saltare in aria da qualche giocatore speriamo stavolta che per una volta non ci siano imprevisti sei diventato ceo adesso sono diventato ceo? dopo due minuti? meglio tardi che mai intanto siamo arrivati a prendere questo tizio qui che dobbiamo portare al nightclub oh questo almeno sale di corsa almeno non fa come gli altri che salgono a passo d'uomo almeno questo ha fretta anche lui semina i paparazzi devo anche seminare i paparazzi adesso? mamma mia non bastassero... sì! mi scusi lei sta... ma lei è un civile e sta laggando vabbè, sì una sessione così laggosa che laggano addirittura i civili io non so come sia possibile una cosa del genere ma cosa sta succedendo? ma cos'è? com'è possibile che lagghino i civili? non è possibile ma se io risparo i paparazzi cosa succede? fallisco la missione se li sparo? spero di no ok, li hai seminati, sì non li ho solo seminati ma... dettagli dettagli no no, dai com'è possibile? ho urtato la volante della polizia dai non è possibile io chiamo Lester mi faccio togliere il livello di sospetto dai, che cavolo Lester Lester dai Lester desospettami ok Lester mi ha desospettato ci manca solo la polizia? ci manca, ci mancava solo quella almeno il desospettamento che offre Lester costa 400 dollari si possono spendere e andiamo dove dovevo andare e qui a fare non so cosa è la prima volta che mi capita questo tipo di missione perché quelle degli altri giorni su questa AmeriK3 limusine erano un po' diverse l'assistente di Tyler dai questo si se la prende abbastanza comoda questo oh cielo ci mancava solo che colpivo di nuovo la macchina della polizia ma dove sta andando? ci mancava solo che la colpivo di nuovo e mi beccavo di nuovo due stelle e c'è un giocatore si c'è un giocatore vicino a Light Club dove devo andare spero che che non abbia cattive intenzioni ah ma c'è anche uno con l'Oppressor ah no quella è la mia di Oppressor che scemo quella è la mia Oppressor ok è in pausa è in pausa quella giocatore lì è in pausa ma ce n'è un altro che sta arrivando verso di me cosa hai in mente? no è nell'altra corsia lì pochi metri pochi metri dai che ce la facciamo si ce l'abbiamo fatta perfetto la sessione sembra funzionare alla perfezione anzi alla per sessione facciamo il solito evento cacciatore di teste che se avrà un esito questo mi ha ribaltato l'Oppressor lei lo sa che quella è la mia oppressor i civili fanno cose ma lei è sicuro di quello che sta facendo? ok scusi lei mi ha ribaltato l'Oppressor questa sarebbe mia non so se lo sa ok meglio allontanarci ok questo va bene no dicevo questa sessione si sembra funzionare alla perfezione mica tanto perché ci sono dei civili che fanno delle cose un po' strane comunque per decretare come al solito per decretare il corretto funzionamento di questa sessione andiamo a fare il solito arcinoto evento in carico del boss la sicuro serve non è al momento disponibile perché non dovrebbe essere disponibile? ah ecco comunque dicevo in carico del boss cacciatore di teste terzo bersaglio attenzione che c'è un giocatore vicino al bersaglio un giocatore che forse lo vuole proteggere c'è un giocatore che forse vuole proteggere il bersaglio e l'oppressor mi aggancia il giocatore ma io voglio agganciare il bersaglio ecco qua è te che voglio far fuori non certo il giocatore no scusa la prego di scusarmi signor giocatore era si è avvicinata troppo si è avvicinato troppo a alla macchina del bersaglio l'esplosione il missile che ho lanciato alla macchina ha fatto esplodere al bersaglio ha fatto esplodere la sua macchina mi dispiace ma se tu ti metti in mezzo io sparavo al bersaglio tutti si è andato a mettere in mezzo vicino a una macchina che esplodeva mi dispiace non l'ho fatto apposta prossima volta sta un po' più attento comunque questo è l'ultimo bersaglio e abbiamo completato anche la missione cacciatore di teste quindi pare proprio che questa sessione sia funzionante ci ho giocato cosa sarà una decina di minuti non ci sono stati malfunzionamenti di nessun tipo quindi direi che il tempo di caricamento ufficiale è lo scrivo in sovrimpressione dopo che mi rivedo il video perché non me lo ricordo quanto era era 7 minuti e qualcosa lo vedrete qui in sovrimpressione perché ora come era non me lo ricordo comunque sia alla fine di questi 5 giorni di esperimento sui tempi di creamento di gta online cosa abbiamo imparato abbiamo imparato che capita molto raramente che il gioco ti carica al primo colpo una sessione funzionante è capitata solamente questa volta qui una volta su 5 era capitato anche nel giorno 2 ma il giorno 2 io quasi non lo conterei perché nel giorno 2 mi ha caricato una sessione con 4 giocatori tutti italiani quindi ci mancava soltanto che una sessione con solo 4 giocatori non funziona quindi l'unica sessione vera con tanti giocatori che mi ha caricato senza nessun tipo di problemi è stata questa qui del giorno 5 ma se si fa la media fra i 25 minuti del primo giorno i 6 minuti 48 del secondo i 22 minuti 27 del terzo i 17 minuti 55 del quarto giorno e i 7 minuti qualcosa che adesso a memoria non mi ricordo di questo quinto giorno si evince che il tempo medio di caricamento di una sessione funzionante di GTA Online supera il quarto d'ora ed è comunque tanto io onestamente mi aspettavo anche di peggio ma vi garantisco che ci sono state delle volte dove non facevo il video che ci ho messo anche 40-45 minuti per trovare una sessione funzionante che in continuazione mi caricavano sessioni che poi crashavano dopo due minuti in continuazione quindi sono stato anche fortunato nonostante io abbia trovato in alcuni giorni delle sessioni che vagatissime come nel giorno 1 quella sessione lì che aveva lo schermo che faceva dei flash da provocare quasi un attacco epilettico ma alla fine sono quasi stato fortunato due giorni questo qui il secondo questo qui è il secondo due giorni dove ho filato tutto completamente liscio su 5 non mi aspettavo che in due giorni su 5 filasse tutto completamente liscio bene quindi si conclude così questo esperimento sui tempi di caricamento delle sessioni di GTA Online spero che questo esperimento vi sia piaciuto vi magari vi abbia aiutato un po' a capire che se avete questo stesso problema anche voi che se anche voi ci mettevi un quarto d'ora a caricare una sessione funzionante non è un problema vostro ma è proprio sono proprio i server della Rockstar che fanno così schifo e niente quindi ci diamo appuntamento al prossimo video che vediamo un po' di cosa parlerà ma per adesso ci salutiamo un po' Grazie a tutti.